E' mezzanotte, tutto va bene, tutto è tranquillo, dormite bene. Dimmi allora che cos'è questa angoscia dentro me. Sto con gli amici al bar, ma è come fossi là, insieme a quelli che stanno morendo là. Stanno sparando, ma non a te, stanno morendo, ma non per te, ma per ognuno che cade giù, muore una piccola parte di me.